di imprese, di famiglie, da Lisbona a Vladivostok, passando per Roma e Milano. Per il bene di un intero continente, già minacciato dal pericolo del terrorismo islamico e dalla costante pressione competitiva dell'Asia orientale, è il momento di ritrovare il dialogo, la pace e il rispetto del diritto internazionale. Spetta ai governi russo ed ucraino mostrare la piena disponibilità ad un avanzamento di questo tipo, ma spetta anche all'Europa, in particolare all'Italia, offrire sia alla Russia che all'Ucraina un percorso condiviso di stabilità, prosperità e collaborazione. Il Governo italiano faccia sentire con forza la sua voce in sede europea e nei consensi internazionali per arrivare a questi risultati, facendo valere più di quanto è stato possibile finora il peso e il costo enorme che responsabilmente le imprese e i lavoratori italiani stanno pagando. Scelta civica voterà in conformità ai pareri espressi dal Governo. Grazie. La ringrazio, collega Librandi. Adesso il collega Piras. Prego. Grazie, Presidente. Io, noi, abbiamo letto con attenzione la mozione che ha presentato la maggioranza. Mi corre l'obbligo di dire, per esprimere un giudizio, che mentre comprendo e trovo in ampia parte condivisibili le argomentazioni esposte nelle premesse e le considerazioni svolte, trovo assolutamente debole l'impegno che consegna il Governo, soprattutto per quanto attiene precisamente alla questione che abbiamo posto anche noi con la nostra mozione delle sanzioni economiche alla Russia, quelle recentemente prorogate per altri sei mesi dall'Unione Europea e che sono in vigore da già circa un anno. Perché è chiaro che abbiamo il dovere di non indebolire, su questo concordiamo con la maggioranza, la posizione dell'Unione Europea e che un atto unilaterale rischierebbe certamente di produrre questo effetto. E questo lo comprendiamo. Ma ciò che non è chiaro è se la posizione dell'Unione Europea sia utile allo scopo che ci si prefigge e quali risultati abbia finora concorso ad ottenere. Oppure se essa non si stia per caso rivelando un pericoloso boomerang sul piano non solo commerciale ma anche geopolitico. Gli accordi di Minsk e del resto appaiono inapplicati da entrambi i fronti, sia da parte ucraina che da parte russa, sia per quanto attiene alle riforme istituzionali chieste a Minsk, ovvero lo statuto d'autonomia per il Donbass, che per quanto attiene alla parte militare, il cessato il fuoco, l'assistenza militare ai separatisti filorussi, lo scambio di prigionieri. Quotidianamente noi assistiamo a ricorrersi di denunce reciproche, notizie di movimenti di truppe, situazioni di tensione che collocano ancora quel conflitto sulla linea di confine con la ripresa piena delle ostilità e dell'escalation militare. E intanto la guerra economica, perché di questo si tratta, delle sanzioni che abbiamo scatenato, sta producendo i suoi effetti nefasti in tutta Europa ed anche nel nostro Paese. Le prime cifre di stima del contracolpo economico sull'area europea tracciate dall'Istituto Austriaco per la ricerca economica dicono che in tutta Europa sarebbero a rischio 2 milioni di posti di lavoro e circa 100 miliardi di euro di valore aggiunto nell'export di beni e servizi. In Italia la politica delle sanzioni e delle controsanzioni determinerebbe la perdita di 80 mila posti di lavoro, 140 milioni di euro nell'export sul breve periodo, 215 mila posti di lavoro e circa 12 miliardi di euro nel lungo periodo, ovvero se la situazione, quella presente, dovesse protrarsi ancora per lungo tempo. Nel frattempo a pagare le conseguenze del conflitto economico va segnalato che c'è anche la popolazione civile russa, in particolare quella più debole, esposta all'aumento esponenziale dei prezzi dei prodotti agricoli, dei farmaci, del vestiario e della svalutazione del rublo. Come sempre e come dappertutto, a pagare le spese della guerra, quella guerreggiata e quella economica, sono le componenti più fragili e povere della società. Ed è ciò che si sta ripetendo in questi giorni in Europa, in Italia ed anche in Russia. E questo fatto, mi si permetta di dirlo, non può restare ai margini questo che succede anche in Russia, non può restare ai margini del nostro ragionamento. Non ce lo potremo permettere senza tradire noi stessi ed i medesimi valori e principi che vorremmo affermare anche in quell'area dell'Europa, cioè quella orientale. E che spero che valgano anche per l'Ucraina, non solo per la Russia. E mi si consenta di dire che noi stiamo scontando oggi gli errori commessi dalla comunità internazionale e dalla Nato nel ventennio appena trascorso, allorché si pensò di umiliare l'avversario sconfitto penetrando politicamente ed in armi in quella che un tempo era la sua area di influenza, generando ulteriori squilibri, tensioni, conflitti fino ad arrivare sul confine, progettando la costruzione anche in questa fase di nuovo e basi Nato, come succede all'ASC in Polonia, e dotando paesi di quell'area, sempre la Polonia, di sistemi missilistici a lunga agitata, missili balistici puntati sulla Russia? In nome di quale sicurezza e in ragione di quale coerente scelta di pace? Questo ancora ce lo stiamo chiedendo e non riusciamo a darci una risposta o forse ce la siamo già data. Vi chiedo ora se a ruoli invertiti, se avessimo noi missili puntati sul confine verso la nostra nazione, se nel nostro Paese ci saremmo sentiti tranquilli, oppure se secondo voi avremmo pensato a una reazione, a puntare anche noi magari i nostri missili sul vicino di casa. È una provocazione forse, mi auguro che non succeda mai, ma lo vorrei porre come elemento di riflessione. Allora, tuttavia, detto questo, io vorrei che fosse chiaro una cosa, perché insomma noi non ci collochiamo fra i tifosi dell'una o dell'altra, o almeno non ragioniamo così. Vorrei che fosse chiaro il fatto che da questa parte, dai banchi di SEL, nessuno e nessuna ritiene legittima la violazione dell'integrità territoriale e della sovranità ucraina e neanche l'annessione della Crimea. Altrettanto, tuttavia, vorrei testimoniare il fatto che nessuno di noi pensa sia corretto minimizzare la portata dell'infiltrazione neonazista in Ucraina, delle leggi che limitano la libertà politica, oppure sostenere che non esista un problema nelle relazioni interne a quel Paese, di rispetto, ad esempio, dei diritti della popolazione russofona. E non saremmo certo noi, altrettanto, a sostenere la tesi che l'atteggiamento russo nei confronti dei diritti umani e dei diritti civili sia in qualche maniera giustificato o giustificabile da ragioni commerciali. L'omofobia di Stato e l'omicidio politico, per dirne due fra, secondo noi, le più gravi. E non nascondiamo neanche la testa sotto la sabbia di fronte alla politica di potenza che sta sviluppando quella nazione. Insomma, la Russia non è un Paese compiutamente democratico, a nostro giudizio, ma non lo è neanche l'Ucraina. Non lo è neanche l'Ucraina. Perciò il ruolo dell'Unione europea non può essere quello che fin qui abbiamo registrato, ma dovrebbe essere l'azione diplomatica, l'implementazione della cooperazione pacifica, il recupero in tempi rapidi di un rapporto normale con la Russia, il suo coinvolgimento in un'area di cooperazione nella quale ognuno possa trarre beneficio in termini economici, ma anche e soprattutto di crescita civile e maggiore densità dei fattori della democrazia. In tal senso chiediamo, con la nostra mozione, al nostro Governo e a tutta l'Europa, non solo di ripensare la sua strategia e il ritiro delle sanzioni economiche, chiediamo un'azione più determinata in favore della piena applicazione del Trattato di Minsk, ma anche la definizione di uno statuto speciale per l'Ucraina di fermare il suo ingresso nell'alleanza atlantica per definire una condizione di neutralità, come si realizzò decenni fa con saggezza con la Finlandia, in tempi altrettanto cupi, in una situazione altrettanto minacciosa. La guerra, colleghe e colleghe, Presidente, esponenti del Governo, quella economica e quella guerreggiata genera soltanto maggiore povertà, sedimenta risentimento, rancori, odio e noi abbiamo bisogno invece di mediazioni, di diplomazia e di azioni di pace per scongiurare quella che è già stata definita da altri più autorevoli di me come una terza guerra mondiale, per lasciare ai nostri figli e dai figli dei russi e dai figli degli ucraini un mondo appena appena migliore di quello che abbiamo ereditato dagli errori e dagli orrori del passato. Grazie. La ringrazio. Prima di passare la parola al collega Alli, avverto che nel corso della seduta potranno avere luogo meditazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono quindi da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Il collega Alli ha facoltà di intervenire. Prego. Grazie, Presidente. Non ripeterò qui le considerazioni di dettaglio che ho già svolto in discussione generale per sostenere il voto convinto che Area Popolare darà alla mozione di maggioranza, mentre voteremo contro tutte le altre mozioni. Vede, Presidente, la lettura delle mozioni presentate rappresenta un excursus interessante, ampiamente documentato sia in termini economici che in termini geopolitici, soprattutto volto dimostrare i danni politici.